Ciao Judith, benvenuta a Cancari Italiano Squadre. Che sensazioni hai avuto da questa prima giornata? Direi che è bello di nuovo tornare in campo. Mi diverto un sacco a giocare qui in questa palestra e poi soprattutto con la nostra squadra. Questa partita andava abbastanza bene, era impegnativa, però alla fine sono riuscita a vincere il Berlasi. Una grande vittoria al terzo set. Com'è andata? Qual è stato il momento determinante? Secondo me nel secondo set mi sentivo già meglio e ho preso un po' di confidente per poi giocare il terzo set. Il terzo set sono partite molto bene, però siamo sempre allo stesso livello, era sempre così, così. Poi alla fine gli ultimi due punti che ho preso io, però potevo anche essere al contrario. Sono contenta, però vabbè. Com'è andata la preparazione a questo concentramento e in generale qual è l'obiettivo del mal-less in questo campione italiano squadre? Direi che quest'anno è molto difficile per noi perché ci mancano tanti giocatori forti, però siamo una squadra vai specchia quest'anno che già era nel passato. Ci mancano a causa di Covid o anche Lisa è infortunata, però speriamo di arrivare in più in alto possibile. Proviamo a giocare in playoffs, però vediamo dove riusciamo ad andare. Grazie mille. Grazie mille.